Luca Meringolo, segretario dell'Accoltiretti di La Mezza Terme, siamo qua a Soveria Mannelli per l'inaugurazione della ripartenza della scuola agraria dell'Istituto Costanzo. Abbiamo accolto con grande entusiasmo ovviamente l'invito da parte della dirigente scolastica perché Coldiretti sposa tutte queste iniziative che servono a fornire una giusta istruzione, una giusta informazione su quelle che sono le reali opportunità che l'agricoltura calabrese può fornire anche attraverso quella che è un'opera di informazione costante e continua che svolgiamo sul territorio. Siamo presenti sul territorio e abbiamo l'opportunità di coinvolgere tutti i giovani presenti sul territorio regionale attraverso i nostri corpi che diciamo Coldiretti Giovani Impresa, che coinvolge direttamente quelli che sono sono i giovani imprenditori cercando di promuovere le loro iniziative che spesso sono supportate anche dalla tecnologia 4.0 che ovviamente oggi è un valido esempio perché forniamo quella che è l'opportunità di crescita delle nuove aziende e soprattutto può essere un trampolino di lancio che consente una buona iniziativa e un approccio differente all'agricoltura. Grazie. 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 Grazie.